Trevi XF100 è un altoparlante amplificato portatile dalle dimensioni compatte ma ricco di funzioni. XF100 riproduce MP3 da USB e microSD card, possiede la radio FM e si connette in Bluetooth con i tuoi dispositivi smartphone e tablet. Con il microfono ad archetto in dotazione potrai parlare e cantare sulle tue basi musicali con la funzione karaoke, abbinata anche ad un effetto luce multicolor. Il sistema Bass Reflex con subwoofer da 4 pollici garantisce un audio pulito e potente. Grazie alla batteria interna ricaricabile tramite USB, potrai portare XF100 con te ovunque vorrai.